Battista Nino Caffè, un caffè dall'aroma e gusto indimenticabili, per una pausa che soddisfa L'azienda offre le migliori miscele di caffè per un gusto tutto italiano Per una pausa gustosa potrete contare su un espresso di qualità, realizzato solo con miscele selezionate Stacca la spina e gustati un buon caffè a casa, in ufficio e al bar Grazie alla passione ed esperienza del titolare Nino Battista, l'azienda produce con cura un caffè tostato per il piacere dei palati più raffinati Offre soluzioni per ogni esigenza La vasta gamma comprende la linea Femmy, che assicura l'alta qualità del bar anche a casa La linea Bar, che si compone di ricche e pregiate miscele delle migliori piantagioni e di un liquore di caffè completamente naturale E la linea Ufficio, per un caffè dal gusto corposo, magistralmente liquoroso Il caffè Nino Battista è un piacere farlo, servirlo, berlo ed è un sacco buono Visitate il sito BattistaNinoCaffè.it per conoscere tutti i dettagli delle nostre offerte